Questa è, sto proponendo un'app per la Apple, per il mondo del lavoro. Mi è capitato di parlare con degli amici, tutti quanti sono in cerca di lavoro, neolaureati che vogliono trovare del lavoro. Ci manca un'app sull'Apple Store e anche sul Play Store che cerca lavoro, soprattutto lavoro pubblico, che ti avvisa quando c'è un concorso pubblico. Quindi propongo alla Apple di fare un'app di questo tipo, dove si ci registra, e la stessa che l'app ti avvisa quando c'è un lavoro pubblico, quindi un concorso, oppure un lavoro privato, quando si fa un annuncio. Propongo la cosa all'amministratore delegato della Apple, Tim Cook. Dopo un'altra app che mi premerebbe fare, è un'app legata al mondo degli animali. Chi ha un animale che non lo vuole più tenere, lo può donare tramite quest'app, è un'ottima cosa. E' una terza app, un'app nel mondo del sociale. Chi vuole fare beneficenza, può vedere in questa app, in questa futura app, tutti gli enti di beneficenza e fare beneficenza tramite appunto o carta di credito, oppure con conto corrente, oppure con conto postale, di fare beneficenza a questi enti. Quindi sono tre app che secondo me sarebbero un'ottima cosa. Proprio quella cosa alla pistola delegato della Apple, oppure a Google o a Microsoft, proprio con chi vuole fare qualcosa del genere. Ci vediamo, arrivederci.